San Prosdocimo fu un appassionato e istancabile evangelizzatore che guidato dalla saggezza dell'Apostolo Pietro portò la fede per Gesù in varie città dell'antica Italia, compiendo miracoli e convertendo molti, fino alla veneranda età di 113 anni. Possiamo chiedere al Santo di avere una fervente passione guidata dalla saggezza e dalla fede apostolica, guarigione e protezione, specialmente nei momenti di malattia e difficoltà, e chiedere la grazia di vivere una vita lunga e significativa, dedicata a servire Dio e gli altri, come San Prosdocimo che visse fino a 113 anni. O San Prosdocimo, concedi a noi tutti che recitiamo qui, oggi, questa preghiera, forza di resistere alle persecuzioni e alle sfide e nel perseguire la verità e la fede cristiana. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente. un grazie dal profondo del cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, fonte di vita che hai chiamato le genti a venire alla luce della fede attraverso l'opera coraggiosa e indefessa di San Prosdocimo. Per una intercessione, concedi anche a noi di accogliere con generosità la Tua parola, di custodirla nel cuore e di testimoniarla al nostro mondo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Poiché Prosdocimo è il patrono di Padova, Cittadella, Asolo, Villanova di Campo San Pietro, tantissimi auguri a voi e che Dio benedica tutti. Grazie. 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 Grazie.